Seconda edizione del Grangola del Calcio a Manfredonia. Nel weekend in piazza Papa Giovanni XXIII, la seconda edizione dell'evento promosso dal portale manfredoniasport.net. A condurre la serata Stefano Favale, Federica Iantoscio e Felice Sblendorio. Premiate le società di calcio, i dirigenti, gli addetti ai lavori che meglio si sono distinti nella stagione calcistica appena conclusa. Tra i presenti anche il tecnico della Fidelisandria, Nicola Ragno, per la grande cavalcata che ha portato i Biancazzurri in Serie D. Ad aglietare il galà, la buona musica di Madrea e la comicità di Tommy Terrafino di Zeli Club. Tanti riconoscimenti nelle tre ore dell'evento, seguito in diretta dalla nostra emittente televisiva. Amica 9 è stata anche premiata per l'ottimo successo di audience riscontrato da Gol su Gol Domenica, condotto dal nostro direttore responsabile Savino Sguera, con la partecipazione di Lello Sciannimanico e Umberto Casale. E ancora Gol su Gol del martedì di Francesco Zagaria e di Aldo Losito. L'appuntamento con Gol su Gol e col Gran Gala del Calcio è per l'anno prossimo con la speranza di bissare un'annata ricca di successi. Grazie.